In questo lavoro avevamo riconoscritto un'erring di Cartier Paris. In questo lavoro avevamo riconoscritto l'erring che nel pasto ha stato trasformato in un ring. Fortunatamente, il cliente ha mantenuto tutto il leggo con la brand originale. Cinesì sto errando perảngelsi perché faccio due gu講... Credo che le differenti storie con questa tecnica rendi togliere qualità漂亮I tra qualche qualche potrebbe invié 4 twist the wire using a hand drill to check the result 3 twist the wire using the wire 4 twist the wire Grazie a tutti. 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 a tutti.